esattamente il 14 di novembre ti ho presentato un video in cui vedevamo che sia facebook che instagram adesso hanno deciso di farsi pagare per evitare di vendere i nostri dati di profilazione ovvero tutte quante le nostre preferenze di navigazione di acquisti e quant'altro sul web a siti di terze parti purtroppo naturalmente non sono gli unici a farlo e talvolta anche senza il nostro consenso questa cosa non mi è andata davvero giù e da allora ho iniziato a testare diversi modi per tutelare la nostra privacy senza necessariamente dover andare ad acquistarla perché non si tratta come appena detto di un fenomeno limitato a questi due social network ma diffusissimo sul web ebbene sono riuscito a trovare uno strumento che è in grado di proteggerci in maniera estremamente efficace e come se non bastasse semplicissimo da installare su quasi ogni browser e allora andiamo a vederlo insieme ti senti pronto iniziamo la soluzione che ho trovato e che mi ha lasciato estremamente soddisfatto è incredibilmente versatile e facile da installare su qualsiasi browser tutto ciò che dobbiamo tenere presente è che funziona su chrome edge mozilla firefox opera e anche su firefox per android visto che in molti sul canale mi avevano chiesto anche come fosse possibile effettuare una tutela di questo genere per android perché sappiamo bene che gli smartphone sono lo strumento prevalente con cui veniamo profilati e allora non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere come scaricare e configurare questa piccola magia quello che ti consiglio di fare è di aprire tutti quanti i browser che usi ma naturalmente uno alla volta eseguire questa stessa procedura che io in questo momento vado a mostrarti con google chrome ma come vedrai a breve è uguale per tutti quanti quindi apri il tuo browser di fiducia e nel motore di ricerca vai a digitare gentiluomo digitale effettua la ricerca e quello che ci interesserà sarà il primo risultato quello relativo al dominio www.gentiluomodigitale.it facciamoci clic su e nella pagina che si apre portiamoci sulla sezione downloads quella qui in alto una volta aperta la pagina scendi un po più in basso fino ad individuare questa voce quella che dice privacy badger vedrai che è diversa rispetto alle altre voci di download perché in realtà il download non è ospitato sul nostro sito ma semplicemente è un link che ti porta al sito giusto visto che ho notato che in rete è possibile finire ed incappare inavvertitamente su siti fraudolenti quindi andiamo a cliccare su file download e vedrai che verrai catapultato sul sito di privacy badger come vedi è disponibile per tutti i browser che ti ho accennato in precedenza quindi scegli il browser che stai utilizzando in questo momento io in questo caso sto utilizzando google chrome e facci clic su immediatamente verrai trasportato sulla pagina ufficiale del chrome web store che ti consentirà di aggiungere in maniera ufficiale questa estensione al tuo browser clicchiamo quindi sul pulsante aggiungi questo in alto a destra e clicchiamo quindi su aggiungi estensione per confermare che vogliamo installare questa estensione attendiamo solamente alcuni secondi e l'estensione privacy badger viene aggiunta a chrome e veniamo riportati indietro sulla pagina principale di privacy badger e proprio su questa pagina ci viene spiegato esattamente cosa siamo appena andati ad installare e che cosa fa per noi questa estensione vediamo che ci viene detto che privacy badger impara automaticamente a bloccare i tracker invisibili cosa sono i tracker invisibili i tracker invisibili sono la tecnologia che i siti web e i social network utilizzano per tracciare tutta quanta la nostra attività online questa cosa viene effettuata sia per mezzo di cookies che di altre sotto tecnologie cosa fanno i tracker i tracker vedono ad esempio da che sito noi proveniamo su che sito siamo diretti qual è la nostra collocazione geografica e vanno ad estrarre altri dati relativi alla nostra navigazione online tutto questo confluisce in un unico calderone che serve appunto a profilare quelle che sono le nostre preferenze quelle che sono le nostre abitudini e i nostri gusti in modo da veicolarci e bombardarci in tanti casi di pubblicità mirata e non solo i nostri dati personali vengono anche venduti a terze parti che ne fanno un uso che noi nella maggior parte dei casi non conosciamo ma come fa privacy badger a tutelare la nostra sicurezza e la nostra privacy ebbene ce lo spiega lui stesso perché se scendiamo un pochino nella pagina c'è un piccolissimo tutorial sul funzionamento di questa estensione leggiamo la prima frase ci viene spiegato che privacy badger impara automaticamente che cosa bloccare non ci sono delle liste anche perché sarebbe impossibile fare delle liste di tutti quanti i siti del mondo che minacciano la nostra privacy quindi privacy badger va ad analizzare singolarmente i siti su cui andiamo a navigare guarda il loro comportamento osserva le informazioni che vengono estrapolate su di noi da parte del sito e nel caso in cui si tratti di informazioni personali non inerenti l'utilizzo del sito perché non dobbiamo dimenticare che in tanti casi ad esempio quando effettuiamo una iscrizione ad un servizio siamo noi stessi a far transitare questo tipo di informazioni e nel momento in cui queste informazioni non dovessero essere lecitamente richieste dal sito va a bloccarle scendiamo ancora un po' e vediamo che privacy badger cattura i tracker subdoli questo è molto importante e ci viene spiegato in maniera ottimale direttamente dalle loro parole il tracciamento invisibile a molte forme le pubblicità sono solo la punta visibile dell'iceberg privacy badger invia il segnale global privacy control per escluderti dalla condivisione e vendita di dati e il segnale do not track per dire alle aziende di non tracciarti se ignorano le tue scelte privacy badger imparerà a bloccarli che siano inserzionisti o tracker di altro tipo e qui sul lato destro vediamo un esempio delle analisi che fa nel momento in cui un sito sostanzialmente va a finire nella zona rossa vuol dire che è stato bloccato privacy badger non è un ad blocker privacy badger blocca alcune pubblicità ma non tutte e questa è una cosa estremamente furba perché ci sono siti l'ho già detto in altre occasioni come youtube che arrivano a prevedere delle sanzioni per l'uso dei vari ad blocker per cui non ne vale davvero la pena ma come funziona privacy badger all'atto pratico andiamo a vederlo proviamo ad aprire un sito tipo amazon per esempio e vediamo che cosa succede nel momento in cui andiamo a navigarci per capirlo meglio andiamo a rendere visibile l'estensione cliccando su questo pezzo di puzzle e cliccando quindi su questo pulsante che serve a metterlo in evidenza vediamo che qui ha già bloccato un potenziale tracker abbiamo la possibilità di vedere che il tracker è questo qui emesso da amazon e che è finito appunto nella zona rossa la zona rossa significa blocca completamente naturalmente possiamo anche modificare manualmente questa operazione qualora ci dovesse creare qualche problema con qualche sito spostandolo nella zona intermedia oppure nella zona verde per consentirlo completamente mentre la zona intermedia blocca solamente i cookie è possibile inoltre optare per la disattivazione di privacy badger su un sito specifico cliccando su questo pulsante privacy badger memorizzerà la nostra scelta e non interverrà in alcun modo su questo sito cosa che va assolutamente fatta nel caso in cui qualche sito non dovesse funzionare correttamente ho testato in maniera davvero intensa privacy badger durante tutti questi giorni e devo dire che rispetto alle altre soluzioni analoghe che ho potuto testare non c'è veramente paragone non esagero nel momento in cui ti dico che privacy badger è in grado di far fronte a un buon 85 90 per cento di tutti quegli attentati quotidiani alla nostra privacy di cui siamo vittime e siamo arrivati quasi al termine di questo video perché prima ho il gradito compito di ringraziare i nuovi abbonati del canale nelle persone di michele mangia lorenzo paoletti e alberto lazzarotto a cui do il benvenuto ufficiale nel club dei gentiluomini ma come ben sai l'ultimo ringraziamento è sempre quello rivolto proprio a te che hai guardato questo video e mi hai tenuto compagnia fino a questo punto e detto questo come sempre non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima